Ciao da Celestopoli, ora arriverà Rebavar, Rebavar ci dirà se nel suo villaggio tutto fila dritto oppure no, ogni volta sarà. Come in un bel viaggio con io e le fanzine ci saremo anche noi, che divertimento, eccolo ecco noi e papà, un bel posto amici miei, c'è l'estopoli dove tutti possono giocare con papà. Che divertimento, eccolo ecco noi e papà.